Dopo 30 giorni di viaggio è arrivato il momento di fare qualche valutazione. Quindi com'è andato questo mese in Spagna? A punti vari. Per chi non ci conoscesse siamo Simone e Gaia, negli ultimi due anni abbiamo restaurato e camperizzato questo Volkswagen del 1979 che è stata la nostra casa in questi primi 30 giorni di van life trascorsi in Spagna. Ma sediamoci comodi e vi raccontiamo com'è andata. Noi siamo partiti in direzione Gibilterra senza aver mai testato veramente la meccanica del van su lunghe percorrenze. Abbiamo fatto qualche giretto nei pressi di casa nostra ma niente di che, massimo 20, 30, 40 km per esagerare. Quindi insomma niente in confronto a questo viaggio che abbiamo fatto. Ad oggi abbiamo percorso più di 2000 km e non possiamo dire che sia andata male. Ma c'è un grande ma. Sulle coste spagnole, noi non avevamo calcolato questo piccolo dettaglio, c'è molto molto vento. Sono molto ventose ecco. E noi ci siamo resi conto di avere un piccolo, ma lo più piccolo problema di stabilità. Dovuto a diversi fattori che adesso vi diciamo. Sia nella guida che nella notte. Sì. E penso ve ne siete anche accorti perché nei video precedenti si vede in un sacco di occasioni che io mi lamento perché soprattutto di notte si sente troppo rumore o il camper oscilla, si muove effettivamente. Tanti spot che di giorno erano il paradiso, di notte diventavano un inferno. Tant'è vero che ci siamo dovuti spostare una sera alle 2 la notte penso. Più di una sera. Né ma una in particolare io stavo proprio sbroccando perché il rumore così forte del vento e il movimento non mi davano pace, cioè non riuscivo a dormire in quelle condizioni. C'era anche il mare agitato che avevamo proprio a due passi dal camper. Anche se il mare in realtà non era colpa del camper, però torniamo a noi, ai nostri problemi. Già dal primo giorno che siamo partiti, che c'era un bel temporale, mi sono reso subito conto che non riuscivo a tenere bene il volante e il mezzo era come se sbandasse. Ma non ci abbiamo dato troppo peso fino a quando siamo arrivati in Spagna e il vento forte era praticamente la normalità. Soprattutto nelle autopiste spagnole lungomare dove il vento era lo standard il mezzo ci ha dato non pochi problemi e fastidi. Infatti dovevamo andare a una velocità di crociera di 50-60 km. E per fortuna che prima di partire avevamo cambiato tutti i vari gommini, cuscinetti e rinvii dello sterzo perché altrimenti sarebbe andata molto peggio. Quindi mi sembra chiaro che la prima cosa che faremo appena tornati in Italia saranno una serie di piccoli e grandi lavori sul camper per aumentarne la stabilità. Comfrontandoci un pochino con altri possessori di mezzi come il nostro, con il meccanico e insomma facendo un po' di ricerche online, ci siamo fatti un'idea di quali potrebbero essere i motivi. Sicuramente le cause di questa mancanza di stabilità sono relative a tutto l'impianto di sospensioni quindi molle, ammortizzatori e balestre. Ci siamo resi conto durante questo viaggio che mano mano molleggiavamo sempre di più e soprattutto l'altezza degli ammortizzatori davanti era diventata quasi inesistente quindi siamo proprio con gli ammortizzatori a zero. Tralasciando questo piccolo problema di stabilità che risolviamo andando piano tanto già andavamo piano prima figurati adesso andiamo proprio con delle lumachine ma non ci interessa perché tanto noi amiamo goderci i posti e i viaggi con calma quindi non è sicuramente questo il problema e ritorniamo, ricominciamo la nostra lenta risalita verso nord perché stiamo tornando verso Barcellona molto lentamente ma verso Barcellona con varie tappe di mezzo. Ma prima di andare avanti ricordati di lasciarci un like di supporto se questo video ti è piaciuto naturalmente e se non sei iscritto di iscriverti al canale. Direi che abbiamo terminato il compleanno di sospensioni e adesso è quasi ora di rientrare andiamo a sistemare il campare per la partenza mettere la benzina e andare in direzione Cordova. Il sole è sceso, finalmente si respira un po' di più perché oggi è stato davvero caldo e siamo appena arrivati a Cordova adesso abbiamo trovato uno spottino vicino alla città sul party for night dove rimarremo sicuramente domani lunedì è sempre una giornata in cui stiamo fermi perché siamo impegnati e poi magari martedì che invece è una giornata un pochino più libera ne approfittiamo la mattina per visitare la città e poi ci spostiamo perché iniziamo la nostra risalita lenta verso l'altra. Travolgimento di programma ci rivedete uscire di sera perché domani abbiamo avuto un contrattempo lavorativo quindi saremo impegnati tutto il giorno e non ci potremo muovere e stiamo visitando la città vecchia di Cordoba vi faccio vedere che spettacolo appena arrivati alle mura che ne pensate? come ingresso non male Gaia è lì giù che hai fatto Gaia? stavo per cadere a un gradino del cavolo di 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 racconta dove stavi guardando nel cellulare stavo a fare una foto si mangiano lumachine non è il primo ristorante che vediamo che vende lumache sono le lumachine di mare penso o di terra non lo so le tende sono spettacolari le influenze arabe di questa città si vedono dappertutto queste mattonelle sanno un po' di Marocco lì c'è la moschetta quella è il minareto se quella è la moschetta che bella c'è qualcosa che non goza in questa moschetta lì c'è la madonna e lì le campane è tutto illuminato questa passeggiata fino all'altro lato e l'hai visto le lucine che fanno effetto candela mi viene il dubbio che sono dei led rotti per notare la differenza siamo venuti in questa stazione in mezzo al nulla i prezzi qui in Spagna variano tantissimo da una stazione all'altra ieri abbiamo messo benzina per 1,70 ma parliamo di benzinari magari anche a 100 metri cioè 20-30 centisimi di differenza come niente fosse e quindi adesso abbiamo imparato che quando la troviamo a 35 in questo caso a 44 però ieri l'abbiamo messa a 35 non l'altro ieri quando la troviamo così bassa è il momento di caricare raga non ce la possiamo fare comunque qua sotto abbiamo messo ad asciugare il tetto del nostro bagno perché innanzitutto la vernice è super puzzolente e dentro il camper non la possiamo tenere perché altrimenti moriamo asfissiati ma la cosa che fa più ridere è che è un mese che siamo in Spagna un mese che dobbiamo verniciare questo soffitto del bagno e abbiamo scelto per farlo l'unico giorno in cui piove ma non è finita qui vi faccio vedere che cosa è successo oggi siamo andati a fare la lavatrice perché avevamo tutto sporco e l'asciugatrice non mi ha lasciata proprio soddisfatta tante cose sono asciutte ma tante e quindi per la serie fidati di me sono un ingegnere ecco a voi la capanna di panni mi fa ridere solo a guardarla guardate quanti ce ne stanno ho tutti i fili che fanno destra e sinistra fu un'infinità che ne pensi della mia creazione? è tipo una bobbina che si srodola pagata qualche euro su Amazon una grande creazione ovviamente tutte le finestre blu eccetera sono aperte in modo da ventilare il mezzo e non lasciare umidità vi farò sapere se la mia creazione funziona buongiorno aggiornamenti dal far west oggi abbiamo già fatto un sacco di cose di prima mattina ma ancora non ci siamo presi il caffè ci siamo svegliati abbastanza presto perché volevamo partire e non sprecare tutta la giornata quindi prima di partire abbiamo dovuto risistemare tutto il camper fare il carico dell'acqua svuotare le acque grigie pulire il bagno eccetera e poi siamo postati anche dalle Rome Irland perché abbiamo delle cose da mettere che se riusciamo vi facciamo a vedere a breve come vedete dalla pianta qui dietro è tornato è tornato il nostro amico vento siamo stati giusto una settimana senza vento ma adesso di nuovo stiamo andando verso Valencia e è qui di nuovo credo che vi potremo fare un video su quali sono stati i posti almeno in questo periodo dell'anno con un clima migliore migliore nel senso caldo, piacevole magari non così tanto ventoso ci pensiamo fatemi sapere se vi interessa io vorrei cercare di mostrare quanto sbandiamo adesso io inquadro il volante abbiamo capito che questo è un problema andiamo di rapato alla fine ieri abbiamo tirato per un bel po' di chilometri e siamo tornati nei pressi di Valencia tra l'altro ci sono tipo gli spari perché questa settimana è la settimana santa e a quanto pare qui si festeggia forte nel senso che anche ieri ieri e l'altro ieri è passata più volte la banda intorno dove eravamo parcheggiati per fare le prove quindi penso che si stiano preparando una bella festa questa mattina è arrivato il momento di terminare o andare avanti abbastanza con il bagno questo è il nostro armadio quando è aperto ma non lo possiamo rifinire adesso perché qui ci andrebbe un pannello di alluminio composito che al momento non abbiamo andremo a mettere una tenda per la doccia qui su ma la cosa più importante è come vedete il soffitto questo e questo sono i due pezzi che abbiamo già tagliato e verniciato cosa devo andare a fare adesso? il buco per la ventola questo aspiratore a fungo con la luce ha bisogno di un foro lo vado a bucare al centro e poi lo fisso con delle viti per il ferro batteria in carica attrezzo pronto, pantofole la fuga di Simone per non dar posti ai nostri vicini più o meno primo pezzo avvitato non lo andremo a rifinire bene perché è da cambiare non è uscito benissimo vado a prendere le misure della ventola per il secondo pezzo ho infilato il tubo che poi andrà accorciato legno segnato adesso lo vado a tagliare col multi utensile il lavoro ancora non è terminato abbiamo fatto il buco tagliato il tubo per collegare la parte della ventola con la plafoniera e adesso mettiamo a posto Gaia sta tagliando la tenda e io finisco di mettere la plafoniera con la ventola come quasi tutti i giorni in pausa a pranzo stiamo andando a vedere la spiaggia vediamo com'è oggi c'è un bellissimo sole finalmente è tornato dove eravamo prima era il cielo un po' grigiastro invece qui vicino Valencia è tornato il sole come potete vedere comunque abbiamo fatto un grande errore a non portarci né il suppo né il kayak è vero che avrebbero occupato un po' di spazio in più all'interno del van ma è anche vero che noi siamo partiti lanciando le cose all'interno e quindi una volta messo a posto avevamo più spazio di quello che pensavamo probabilmente saremmo riusciti a portarne uno dei due magari sarebbe stata una buona occasione per me per fare amicizia con l'acqua visto che mi piace tanto cioè so nuotare non ho problemi ho fatto tipo dieci anni di nuoto però ogni volta che vedo l'acqua dico mh freddino non so se ho voglia di entrare e quindi io sono una di quelle che non si fa mai il bagno e invece Simone come fa? Simone sempre si tuffa qualsiasi occasione si lancia abbiamo provato surf l'anno scorso in Marocco e ci è piaciuto non è entusiasmato tantissimo ma ci è piaciuto che non ci avete entusiasmato tanto perché di solito quando qualcosa ci entusiasma il giorno dopo almeno una settimana dopo abbiamo l'attrezzatura però non è stato questo il caso quindi qualcosa mi fa pensare gli ultimi giorni qui in Spagna ci accompagnano con un bel sole devo dire siamo fortunati e adesso ci andiamo in Pantanare ci stiamo ravvicinando a Barcellona e siamo tornati sul delta dell'Ebro perché come posto ci è piaciuto anche se era un pochino ventoso e ne abbiamo avuto la conferma questi giorni e adesso stiamo andando a vedere la spiaggetta che non avevamo visto all'andata speriamo di non impantanarci con il camper ma abbiamo le ruote da sabbia quindi non dovrebbe succedere niente e si va primo pezzo in assoluto con sabbia, acqua e fango devo dire 100% positivo Gaia non parla Gaia non era convinta io convintissimo adesso siamo qui vi faccio vedere il posto questo è lo spotino dove abbiamo pranzato niente male abbiamo il mare da tutte e due le parti qui e qui adesso non si vede perché la videocamera è super grandangolare molto bello ecco qui come vedete a terra è abbastanza bagnato ma molto meno rispetto alla stradina che abbiamo fatto per arrivare qui per fortuna soltanto un paio di minuti c'è il mare su tutte e due le parti non so se si vede io ero un po' in ansia per arrivare qui perché abbiamo fatto un paio di minuti in realtà neanche tanto due tre minuti con questo tipo di terreno ok non asciutto come quello che c'è nel parcheggio ma super fangoso anzi questo in realtà è meno non so se si rende l'idea il video che ho fatto prima non sono molto amica dell'acqua sono stressata dall'acqua perché si vede che siamo di montagna ma io ho l'ansia di qualsiasi cosa tipo che se il parcheggio è troppo vicino la notte si alza la marea e mi porta via con tutto il furgone oppure di rimanere impantanata non è il mio elemento eccolo qui faccio vedere le gomme in che condizioni sono in realtà pensavo peggio anche se questa è sabbia con acqua di mare quindi dobbiamo andarlo a lavare un pochettino si è sporcata più la ruota di scorta che il resto e questo è il panorama che spettacolo andiamo via a trovare un posticino meno ventoso così possiamo lavorare in tranquillità e rifacciamo il pezzo di off-road su sabbia guadare il fiume aiuto molto molto divertente ora dobbiamo andarlo a lavare perché è acqua di mare quindi corrode un pochino il nostro telaio potrebbe non apprezzare più che il telaio la carrozzeria fenicotteri guarda il culo rosa guarda il culo rosa sono bellissimi ce ne sono un sacco eccolo guarda com'è rosa lui guardate quanti una cosa però c'è da dire hanno qualche problema serio con le strade perché da noi neanche in campagna e noi stiamo in Abruzzo quindi non è che sia la terra più sviluppata d'Italia ma i guardrail stanno ovunque soprattutto dove sono i canali invece qui non so se riesco a farli vedere cioè praticamente se metti la gomma sulla striscia bianca cadi nel fosso e qui neanche tanto cioè qualche centimetro c'è ma ci sono dei punti dove proprio è crollata anche il bordo strada cioè questo per esempio cioè non c'è neanche la striscia è subito il fiume ma bella è bella però forse meglio con la bicicletta cioè non so se vi rendete conto del fosso laviamo tutto super meticolosamente guarda che bosso questi occhiali gialli c'è da mettere qualcosa in chiaro se Gaia parla spagnolo con qualcuno e gli rispondono in catalano non va bene non è che non va bene è che io non capisco comunque a parte la polemica del mattino caffettino lungo fiume bellissimo raga adesso qui siamo al baretto ma in realtà c'è tutta una bella camminata lì c'è il ponte che collega le due parti è un'antizio in canola molto bello eccoci qui appena arrivati in una Barcellona un pochino deserta qui vicino a me vedete l'indizio e vi faccio capire meglio un'antizio in canola un'antizio in canola e vi faccio capire meglio un'antizio in canola che ci sia un'antizio in canola che ci sia un'antizio in canola grazie a tutti